Senta, partiamo un attimo a Whirlpool. Calenda ha pubblicato questa risposta che il suo ministero le ha dato perché lui voleva incontrarla per darle una mano. Si era molto offerto di darle una mano, dice la risposta è purtroppo impegni già calendarizzati, non consentono al ministro Di Maio di incontrarla domani come dare richiesto. Calenda continua a dire non vogliono le competenze di chi c'era prima, è un errore. Avete anche tolto un funzionario importante che aveva seguito tutte le crisi. Non avete un pochino sottovalutato la complessità di alcune cose? Mi perdoni e non rispondo a Calenda. Lui è il miglior ministro di tutti i tempi, io sono il peggior ministro di tutti i tempi. Quindi la mettiamo così. Per il resto, quando mi si accusa hai rimosso quel funzionario e hai fatto ruotare i funzionari, ma erano anni che ci dicevano andate lì per cominciare a rimuovere qualcuno che è stato troppo lì o a far ruotare un po' i posti perché c'è qualcuno che sta da 17 anni nello stesso posto. Però non mi siete accorti che stavano durando Mercatone 1? Ma come non ci siamo accorti? Non andiamo a monitorarla quella cosa lì. A gennaio i commissari di Mercatone 1 avevano già cominciato a portare avanti la messa in mora di quell'azienda. Il tema è, lei l'ha mai vista la sede di quella finanziaria che acquistò Mercatone 1? È un appartamento di due stanze a Malta. Ora io non so come si possa fare a firmare la vendita di 55 punti vendita ad una finanziaria che sta in un appartamento a Malta di due vani.